Ammina, cretino, sentiti lì Uì, spinge la luce che mo' questo lo dobbiamo torchiare spinge la luce dalla stanza io a questo lo faccio pure, commessare, non mi interessa che il fratello... non sogno commessare che cazzo volete da me? io non so niente io, non ho fatto niente fatevi vedere mio fratello, fatemi vedere, bastardo tuo fratello non lo sentivo devo ancora sopportare le tue malefatte che fai fuori? fai fuori nel nuovo caso e fai un po' coraggio giusto allora, basta scherzare cominciamo con la domanda se c'è una dosa che gli spettatori di Christmas Gangster non hanno ancora capito come facevano questi due champ ad essere con te sullo scooter alla ricetta della Francia e poi ad essere contemporaneamente con le pro in Francia a Parigi no lo so sono solo che andano in Francia con lo scooter adesso basta deficiente comunque io sono stanco vado a comprarmi delle sigarette ma noi ho comprato di prima eh sono finite vuol dire testa di cazzo ciao 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 adesso avrei voglia di leggere un giornale non so...ll'equipe posso andare a comprarlo? devo andare a comprarlo quasi va bene tu aspettami ciao testa di cazzo se vi dici perchè hai ammattato le fronte non posso dire alu compensa di cazzo da ruba da mazzara la frau pronto devem confessar devem confessar non so bemmas a tu sono non so bemmas Grazie a tutti.